Vuoi prendere quel pompa? C'è un carrello, lomba? Vai, vai! Ovvio, vincino, ovvio. Prendilo, buttami sopra e andiamo indietro, vai! Vai, sei pronto! Vai, capitano, vadi! Sì, non vedo nessuno stavolta, eh, raga. Vengo sopra con te, ma non è vero, non è vero, non ci arrivo, non ci arrivo, non ci arrivo, scherzavo. Io sono sopra. Mi vieni aci con me. Mi dite dove vanno? Forca puttana, Timo. Mi dite dove vanno? Non lo so, io non ho visto nessuno. Timo, sei tu? Sono verso la clock tower, verso la clock tower. Raga, quel è un progore di la scuola. toccato la magia dell'america sopra clock tower one shot un altro sopra il tetto della casa sopra zizza sopra clock tower sta scendendo da one shot capito dimmi ragazzi sta scendendo la clock tower preparatevi io io ho bisogno probabilmente tra un bambolone se non c'è io non mi muovo l'omba clock tower c'è lasciato dentro il nostro dell'arco per uscire eccolo è uscito fatto non hai armi l'altro sta correndo basket l'ultimo l'ultima basket regà go basket io non ho materiali l'omba me li vieni a lasciare la metà dei tuoi sto scendendo giù prendi le porte le porte l'ultimo dimmo credo è in quanto ha capito lasciato ok bella gg non c'è un regalo per te ragazzi è tutta nostra la città io luto giri gli anni da me io luto c e freccia ragazzi ragazzi mi è salito il cerchino impazzito con l'air c'è gente da questo sei tu un allutato la freccia mi sa che era forse la lui no 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 era lui era il compagno di questi ho le pozzette c'è una pozzetta io devo che si fa tanto cosa c'è la cassa ma la zona il don è qua ragazzi abbiamo poco tempo io mi ho messo in modo della mia stessa casa ma lasciato io non ho la capo potete sceldivano chita qualcosa cosa o pozzette è un medico qualcuno deve prendere qualcosa ragazzi uno che parte va uno che parte l'urba uno slurp ragazzi uno che parte va io finiscono raga uno che viene qua aiutarmi a portare la roba sto portando le pozzette il medico è più che altro ragazzi dobbiamo muoverci oddio lo scar io c'ho un medico e delle pozzette qualcuno che prende qualcosa io non ho pure ma i cui dobbiamo andare buono altre pozzette non ho pure un jump ad è per dopo ok andiamo materiali come siete messi 700 700 ok io 500 quando li abbiamo fatti tutti sti materiali è bello che con due alberi così ti fai 100 di legno easy proprio ragazzi veloci ci dobbiamo prendere quello spot comunque sono davvero curioso perché c'è perché la modalità blitz e ci sono così pochi i cittadini e jump ad io se le cittadini e jump ad no 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 jump ad è pieno jump ad è pieno bro jump ad è pieno quanti ne avete voi zero ma prima ne avevamo un botto grazie a zelda fatto la sincronation a te e l'altra quindi vado ragazzi poi uno spacchi le scale se può è pure da me vabbè le spacco io questo questo le spacco io ah no c'è il blink ce l'abbiamo davanti ok perché noi siamo giù ancora arrivo Paola arrivo bravo carissimo manca uno una cosa me guardate ma ho le farò di tutti ma da chi si è fatto una buona quanto danno fatto è velocissima fa pure malissimo io dobbiamo aspettare e vedere dove ragazzi andiamo al giallo veloce veloce abbiamo gente che si sta muovendo non possiamo si sarebbe aspetta ce l'ho io la giunta avete l'omba dobbiamo andare arrivo seguitemi vedete sono in due davanti a me che io bisogno di una pozzetta in più dopo te la lascio l'omba a 30 50 hp 40 ti piega arrivano le granate fatto manca l'ultimo ragazzi è qua da me morto vado a loterlo veloce l'omba non c'è grande torato non c'è la torato vi prego qualcuno lo prende dov'è 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 lo prendo io pozzone l'omba a dimmi ragazzi veloci veloci ragazzi aiutatemi partita safe perché sto cercando di portare questa è il lanciato dorato per voi vabbè ma lascio c'è già uno qua il lanciato granate vai tra le tra si ma dorato no 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 però comunque che fai ok ragazzi il lanciato dorato aiutatemi dove sei ma ragazzi qualcuno lo viene a prendere ho trollato ma non è che se lo ripeti arriviamo più veloci ma scusa vai la metterà per farti trigger oh tieni ecco pure i colpi beh ne apporta lo brinchi però brinca ma nessuno lo vuole ma nessuno lo vuole ma come lo vuoi usare lo prendo io lo prendo io lo prendo io ma che trolli a direi cazzo 2 2 2 2 lo lasciati 8 io no vai vai ho preso colpi di mitraglietta pompa tieni tieni 980 980 di mitraglietta tieni ok io sono una bozzetta tieni io io non ho e tieni se me ne puoi dare qualcuno in più grazie tu vai gare che cosa è successo ho dato bosca e base no ok ragazzi siamo probabilmente tre di altri due team mi raccomando blink sta tutto a te qua oh blink io la farei in emote però in questo momento eh io la farei in emote cerchiamo di capire dove sono eeeh dentro qua dentro c'è sicuro raga ma ci scommetto le pari raga ma perché buildatevi da qualche parte aspettiamo che paura oh cazzi non male io ancora un jump ad eh bravo io pure ne uno e manca in quattro più persone no l'ho portato tua perché sei tu saliti in alto di me vai scendiamo hai capito io stavo guardando l'omba mi build mi piace essere sempre sopra degli altri e poi lasciamo stare ma non modificato switch ce l'ho davanti uno uno sono in set ho dato uno io ho visti due mi avvicino mi avvicino che io ne ho diventato quello dietro l'albero volete zampare? no ma chi ma chi cazzo c'è ma ragazzi venite in safe c'è pure il loot da prendere se vedi in safe vai vai gli altri ce li ho davanti ragazzi prendete il loot prendete il loot 1,3,3 rega non è lo sniper oh no sta sinistra finita di fondo ultimo team manca manca l'ultimo team dai prende la cassa è là davanti dove vedere quelle strutture dovrebbero essere tutti i nei grandi si sta costruendo la davanti l'altro lanciarazzi altre granate 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 lomba vado dietro all'albero metto dietro all'albero tieni lomba quattro granate lomba uno si sta avvicinando raga se mi tirano giù poi mi prendono mentre cado so che è oggetto dimo lomba uno è sotto di me a destra dov'è? uno è sotto di me tipo ragazzi dobbiamo andare noi venga insieme pensi che vieni stai camminando ho capitato uno lomba vai con le granate lomba uno è sotto cosa dimo mamma mia che male che mi hanno fatto ragazzi mi sto pushando uno guardia guardia dai colori c'è uno a sinistra uno ce l'abbiamo sotto George era low vai 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 intavo due volte vabbè non penso possa arrivare più alto di me no 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 si è buttato sotto sono sotto lomba dentro la buca allora vai dentro la buca non vedo anche me non lo vedo dentro dentro non c'è patate aspetta aspetta mi sto caricando fatti uno tolgo io tolgo io l'albero è qua dentro ragazzi è qua dentro qua dentro lomba guarda non ho più uscito uscito ok bravi ragazzi c'è con le gente sono morto leva di leva di lomba sto andando via ma segue eh niente ragazzi qua sotto di me qualcuno riesce a venire ragazzi bastardo ragazzi 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 Grazie a tutti